è stato un consiglio comunale bollente quello di cittanova ieri sera argomento della discordia inserito all'ordine del giorno su richiesta dell'opposizione la proposta di revocare l'associazione temporanea di scopo costituita in vista dei festeggiamenti per il quattrocentesimo anniversario della fondazione del comune nel mese scorso il consiglio comunale aveva approvato la costituzione dell'ats formata da due associazioni cittadine e dal comune la nomina presidente del comitato scientifico del professore francesca tornato rettore dell'università di macerata l'opposizione aveva lamentato la discriminante che solo due associazioni erano state inserite nell'ats ed erano state escluse tante altre non per ultimo anche le accuse che le due associazioni avevano un orientamento politico ben definito nate e cresciute a sinistra durante la seduta consigliare alessandro canata per l'opposizione ha ribadito avete invitato a partecipare ad una riunione postuma le associazioni non coinvolte per tempo senza alcuna possibilità di renderle partecipe al progetto ferma restando la fiducia nel professore adornato dice ancora canata rivedete la rosa degli studiosi che faranno parte del comitato avete dimenticato cittanovesi di chiara fama a sorpresa l'altro consigliere di opposizione ettore russo firmatario del documento di revoca dell'ats si è astenuto dal voto mentre nel primo consiglio aveva votato a favore pur auspicando un maggiore coinvolgimento della chiesa per l'altra opposizione guidata da luisa foci che nel primo consiglio si era astenuta ha insistito nella revoca dell'ats in quanto formata da due sole associazioni di marca pd il primo cittadino francesco cosentino ha ribattuto è previsto il coinvolgimento di tutte le associazioni e delle scuole l'ats è solo uno strumento di lavoro ho comunque ricevuto due distinte lettere ha proseguito il sindaco dal professore adornato e dalle due associazioni con cui mi comunicano la loro decisione irrevocabile di recedere in quanto a causa delle polemiche sollevate non ritengono vi siano le condizioni per lavorare serenamente prima del voto altre scintille tra maggioranza e opposizione con cannata a preannunciare querele per le accuse che sono state mosse durante la seduta poi la votazione che a maggioranza ha respinto la proposta dell'opposizione di revoca dell'ats anche se di quel progetto pare non sia rimasto più nulla non sia rimasto più nulla non sia rimasto più nulla